Presidente, per me il popolo è subito, questa gente ha dato la resistenza, grazie di quello che ha detto, grazie per me, grazie per me, grazie per il regalo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuto Presidente, grazie. Abbiamo seguito da tutti il Presidente. Grazie Presidente. Massarella, 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 Massarella! Il sindaco di Schomburg ha una segna. Grazie a tutti.